Musica Buonasera, ciao Panichelli, signor Panichelli da Petacciato, il signor Michele Giannino da Mafalda e invece abbiamo il signor Troiano Parisio da Rosciano, però si è passato pure per Paolo Ma che sono andato? E' bravo, voglio domandare una cosa un attimo a Vettore Vettore, ma che signore che si dice questo, ora ci arriva la mezza S'era da vuoto che gli piaceva la cosa e ci arriva l'antravo S'era da vuoto che gli piaceva la cosa e ci arriva la cosa E quindi ci arriva l'antravo, ci arriva l'antravo Ma se uno gli dice a cui c'è, ci arriva l'antravo, significa quasi Però se uno gli dice in un altro tono di fare, è lui quella E' io dal posto vecchio E' io dal posto vecchio E' Mario, buongiorno Dimmi una cosa, che significa la salvanese? Quando gli dice questo, ci arriva l'antravo Ci arriva l'antravo? E' perché aveva aiuto a una caggina C'era questa ruota buona, ci ha voluto piacere E ci ha cercato da rire, ci arriva l'antravo Questo vorremmo dire Cioè ci si è ammazzato Questo è un significato Però può avere anche altri significati Cioè cadere una cosa gli piace E quindi quello ci torna e ci arriva l'antravo E ci arriva l'antravo Io che per esempio gli piaceva l'antravo Ecco Ci arriva l'antravo, se credo che avevo l'antravo Invece aveva le screppelle Le screppelle O le freselle O le freselle Va più male E anche un altro dono di faccio anche Se quelli E stavote ci ha rimesso l'antravo Che significa? Che stavote ci ha rimesso Ci ha rimesso le penne Ci ha rimesso le penne Tanta volte ci ha rimesso l'antravo E lui guarda che alla fine ci ha rimesso lo zambino E lui stavote però ci ha rimesso l'antravo Come il detto vecchio Ma si dice pure a Pettacciato eccoci E si dice pure a Mafal Oh certo, certo Da tutte le parti Ora lo puoi esistere Ora lo puoi esistere Non sei tu già mai a scorda ecco Rosciano Rosciano provincia di Pescara Di Pescara Quindi alla mezza Dicete voi C'è io dalla mezza Alla c'è mezzo a Pescara Eh si Ok amici Grazie Grazie Ciao 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 Grazie a tutti.